Oggi in studio fa bella mostra di sé la nuova Volvo XC60 che oltre alla forma accattivante racchiude in sé un elevatissimo bagaglio tecnologico. Scopriamola insieme al primo ospite di oggi in studio. Buonasera cari telespettatori anche da parte mia come vi ha accennato Elisa oggi parliamo di Volvo e diamo subito il benvenuto al nostro ospite in studio Roberto Lonardi responsabile pubbliche relazioni di Volvo Italia. Ciao Roberto grazie di essere tornato a trovare. Grazie a voi un saluto a tutti. Allora grazie di averci portato anche la nuova Volvo XC60 un modello che insomma per il marchio che rappresenti ha davvero una grande importanza con un con un passato importante. Arriva la nuova generazione cosa porta di nuovo? Intanto parliamo della prima generazione perché la prima generazione è stata una sorta di miracolo perché una longevità assolutamente quasi unica nel panorama automobilistico con record di vendita ripetuti man mano che l'età avanzava. Le cifre importanti della seconda generazione di XC60 sono certamente il contenuto di tecnologia legata alla sicurezza in primo luogo e anche questo è un raccogliere la tradizione perché XC60 è stata già una pioniera per molti versi. Ricordiamo che l'XC60 quando fu lanciata nel 2006 aveva per la prima volta installato di serie il sistema di frenata automatica di evitamento degli impatti, il City Safety. L'XC60 amplia in maniera importante il contenuto di tecnologia e oggi abbiamo dei sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida che vanno ulteriormente nella direzione della guida assistita, della guida autonoma. Il City Safety oggi oltre a frenare su questa vettura aiuta anche a sterzare l'auto. Partiamo però proprio dal design. Volvo, come dicevi tu, è sempre all'avanguardia ma con questa nuova generazione di vetture ha fatto forse un passo veramente grande in avanti. Maggiore lusso, maggiore luminosità. XC60 ha anche una grande piacevolezza del suono a bordo, nuovi materiali, cos'altro? Cos'altro? Il tutto deve assomigliare a un salotto. L'idea del salotto scandinavo è quella che ha guidato diciamo così la scelta degli stilisti quando è stata definita la famiglia 90. L'XC60 è cugina stretta della famiglia 90, quindi anche qui dentro si ritrovano gli stessi elementi. Qualità dei materiali, luminosità come giustamente hai citato tu, spariscono i bottoni, tutto è raccolto in un tablet centrale che coordina le funzioni del veicolo, le linee sono estremamente raffinate. Tutto questo per dare un'esperienza di vita a bordo, rilassante, che possa mettere a proprio agio chi è a bordo. La sicurezza, lo dicevi prima, sono tanti i sistemi, cominciamo ad elencarne qualcuno. Mi sono scritta qui l'Oncoming Lane Mitigation. Di cosa si tratta? Come funziona? Hai scritto bene perché quello è forse l'elemento più caratterizzante di questa nuova generazione di sistemi di sicurezza di cui XC60 è dotata. Dicevo prima che si è passati da un concetto di frenata per evitare gli ostacoli a un concetto di frenata accompagnata alla sterzata per evitare gli ostacoli. Quindi è fondamentale che la macchina sappia scegliere il da farsi in diverse situazioni. Quindi l'Oncoming Lane Mitigation è un esempio di questo. Diciamo che nel momento in cui o per distrazione tendiamo a uscire dalla nostra corsia o per qualsiasi motivo perdiamo la nostra corsia e rischiamo di impattare contro un veicolo che sta arrivando nel senso opposto, se come accade quando siamo distratti e non facciamo nulla per correggere la traiettoria della vettura, ci pensa lei stessa a correggersi perché legge l'arrivo della macchina in senso opposto e quindi si riporta all'interno della propria corsia per evitare lo scontro frontale. Ci avviciniamo sempre di più, come dicevi tu, verso una guida autonoma, ma la chiamiamo semi-autonoma. Oggi è guida assistita e bisogna essere chiari. Come si pone Volvo da questo punto di vista? Con un'estrema chiarezza. Con un'estrema chiarezza. I sistemi che noi oggi abbiamo, e lo dice il nome, Pilot Assist, è un sistema di assistenza alla guida che prevede che chi siede al volante sia attivo al volante perché non siamo ancora nel regime di guida autonoma, nessuno lo è oggi. Nella migliore dell'ipotesi una vera applicazione della guida autonoma in senso generale per tutti i costruttori di automobili si prevede fra il 2020 e il 2022. Oggi non siamo in regime di guida autonoma. Ma chi dice il contrario non dà una corretta informazione. Andiamo avanti ad approfondire un pochino di più la XC60. Apriamo il capitolo della connessione e della navigazione. Ovviamente una nuova frontiera anche da questo punto di vista. Il nostro smartphone diventa parte integrante della vettura anche su XC60. Anche su XC60. In questo caso l'XC60 è meno rivoluzionare di quanto è stato in realtà XC90. XC90 ha portato veramente il cambio di orizzonte. XC60 mutua il sistema di connettività di interfaccia Human Machine Interface. Sensus, che oggi è reputato una sorta di riferimento sul mercato per la facilità di utilizzo, per l'efficacia anche che ha. Questo sistema Sensus usa il tablet centrale che fa parte del corredo degli interni di XC60 come anche di XC90 come punto di raccolta di tutte le funzioni dell'auto. Quindi abbiamo un punto solo dove la nostra mano, è un touchscreen, comanda l'auto. Attraverso questo schermo noi possiamo visualizzare anche tutte le funzioni, le applicazioni dei nostri apparati portatili, quindi telefonini, tablet, quello che è, in modo che ci sia un solo punto, ancora una volta, che raccoglie tutto quello che ci serve per ricevere o dare informazioni. Ecco, da ultimo parliamo anche delle motorizzazioni. Come si esplica la gamma di motorizzazioni dell'XC60? Allora, l'XC60 anche questo, diciamo così, deriva, diciamo così, tutta la sua gamma motori dalla famiglia 90, quindi comunque usa i motori che oggi sono su tutta la gamma Volvo, quindi i motori della famiglia Drive-E, motori ecologici, ad alta efficienza termica, ci sono motori benzina e turbodiesel, ovviamente i turbodiesel sono quelli che vanno per la maggiore, di 4 a 190 cavalli e di 5 da 225 cavalli, sono le due motorizzazioni principali. Poi arriverà anche un D3, un po' più piccolo, da 150 cavalli, e poi ci sarà anche top di gamma il motore ibrido T8, che è il nostro fiore all'occhiello tecnologico, motore da 409 cavalli, per delle prestazioni da sportiva di razza, veramente, con consumi ed emissioni da 49 grammi per chilometro, quindi un po' la quadratura del cerchio, sia dal punto di vista dell'efficienza ambientale e, diciamo così, di emissioni, e dal punto di vista prestazionale. I tre pilastri della mobilità sostenibile del futuro per Volvo sono la connettività, la guida autonoma e, diciamo così, l'elettrificazione. Di cosa parliamo la prossima volta? XC40 anche, magari. Ecco, lo sapevo, volentierissimo. Quindi l'appuntamento è, penso, a questo punto nel 2018. Assolutamente, grazie. Grazie a te, Roberto, e noi proseguiamo la puntata di Safe Drive.